Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, siamo ancora qui a Difa Berlino 2017, naturalmente ancora stand Sony, ci troviamo questa volta al cospetto però di Xperia XZ1. Abbiamo già visto XZ1 Premium, andiamolo a vedere un po' più da vicino. Il design è praticamente identico, se non fosse per il display, un display da 5,2 pollici, full HD, quindi 424 ppi, troviamo poi processore Qualcomm Snapdragon 835, quindi top di gamma, fotocamera anche in questo caso da 19 megapixel, con camera interna da 8 megapixel, super slow motion, 960 fps, anche in questo caso interfaccia Android stock, troviamo Android Oreo 8.0, è il primo smartphone insieme a XZ1 Compact ad averlo installato, sin dal lancio naturalmente, oltre agli smartphone Nexus che sono stati aggiornati insieme a Google Pixel, e infine anche in questo caso troviamo il 3D Creator, che è questa nuova tecnologia di Sony, che così come su XZ1 Compact permette la possibilità della stampa 3D o di creare simpatici avatar con il riconoscimento 3D totale e facciale della nostra persona. Bene, per questa video preview dallo stand IFA Berlino di Sony è tutto, alla prossima e un saluto a tutti da Gianluca.